www.biofon.it Biofon apparecchi acustici, Viale Iapigia 42, Lecce, Biofon, ridiamo colore ai suoni della tua vita. Amici sportivi a tutti, buonasera da Bruno Conte, ci troviamo nei locali del Tennis Grill a Lecce per un'altra puntata di Sport Puglia. Questa settimana naturalmente è dedicata interamente al derby di Puglia che torna dopo 24 anni di assenza, quello tra Taranto e Lecce. Sulla mia sinistra Vittorio Renna della Gazzetta del Mezzogiorno, sulla mia destra Ernesto Luciani, direttore di lecceoggi.com. Buonasera ad entrambi. Allora Ernesto, si diceva e si dice clamoroso al Cibali, domenica abbiamo detto tutti clamoroso al Menti. Te l'aspettavi questa straordinaria partita del Lecce? Assolutamente no e ero già contento quando c'è stato il secondo gol realizzato e il terzo gol poi sono saltato perché c'era da saltare, c'era da esultare ma c'era anche da pensare e credo che sia il caso di pensare a quello che è successo nell'arco dei 90 minuti. Allora Vittorio, clamoroso al Menti, ho detto bene? No, hai detto benissimo, clamoroso è storico perché è successo soltanto due volte nei cento anni di storia del Lecce che il Lecce fuori casa perdeva 2-0 e poi ha vinto 3-2. E' successo nel 1970 in casa della Viterbese, il Lecce perdeva 2-0 poi ha segnato 3 gol con fiaschi al novantesimo addirittura come ha fatto Caturano e vinse 3-2 quella partita. Poi nel 1996 in casa del Palermo si perdeva 2-0 e poi Lecce vinse 3-2 pure lì. Quindi è la terza volta che Lecce vince 3-2 in rimonta dopo aver subito due gol. Quindi è un episodio storico, una partita storica che rimarrà impressa nella mente di tutti i tifosi del Lecce e anche penso di quelli stabiesi. D'altra parte è finita in trionfo veramente, una partita che sembrava stregata alla fine del primo tempo però dopo siamo riusciti a stravincerla e adesso siamo al primo posto meritatamente. Senti Ernesto, alla fine del primo tempo che era stato decisamente negativo per il Lecce si perdeva 2-0 e sembrava che la vetta della classifica dovesse essere distante 6 punti. Che poi il calcio riesce a stupire in questo modo invece siamo in testa con il Foggia mentre il Matera si è fermato. Questa rimonta però ha una motivazione anche tecnico-tattica perché Padalino nel secondo tempo ha cambiato delle pedine e soprattutto ha cambiato tatticamente la squadra Lepore e è andato a giocare a destra. Stai mettendo il dito nella piega direttamente? Allora il primo tempo il Lecce praticamente a mio avviso non è esistito che ne dica qualcun altro. Nel secondo tempo invece Padalino ha avuto l'accortezza una volta tanto di seguire quelli che sono i consigli di chi segue il Lecce da sempre e ne vuole soltanto il bene e non altro. Passando al 4-4-2 non è la prima volta che succede il Lecce trova immediatamente le misure giuste, trova quell'equilibrio giusto tra i reparti e trova soprattutto quel giocatore che invece quando gioca con il 4-3-3 non tiene a disposizione ovvero Lepore. Perché? Perché Lepore quando si accentra non rende più così come rende quando può correre lungo la fascia. Quello binario ideale che si crea tra le gambe di Lepore e la fascia dell'out è il binario giusto perché il Lecce possa arrivare ad ottenere i risultati positivi. E lo ha dimostrato non solo questa volta ma anche in partite precedenti quando era in difficoltà ed è passato al 4-4-2 il Lecce ha sempre ottenuto quello che voleva. Questa volta poi è clamoroso e poi la partita, ha giustamente detto Vittorio, è una partita dal risultato storico ma prima di tutto è una partita che ricorderemo per le grandi emozioni che ci ha riservato nel secondo tempo. Perché il primo gol realizzato ci ha dato l'impressione che potesse essere quella speranza, quella fiammella che si riaccende per cui ognuno di noi ha pensato Adesso forse il risultato torna in discussione ma è tornato alla grande perché poi abbiamo realizzato dopo dieci minuti il secondo gol. Anche questo è molto bello perché quello di Pacilli è decisamente bellissimo gol. Veramente è un giocatore acquistato forse a sorpresa per molti tifossi leccesi ma che il direttore sportivo ha avuto grande fiuto nel prenderlo. Così come ha dimostrato di avere grande fiuto in tanti altri affari e secondo me il Lecce, e questa è la cosa che mi diceva proprio giorni fa un amico con cui parlavo, dice ma forse il Lecce ha soltanto 11-12 giocatori. No, no, il Lecce ne ha 24 e sono tutti quanti 24 sulla stessa altezza e lo dimostra il fatto che quando c'è il giusto avvicendamento e vengono mantenuti quelli che sono gli equilibri giusti da mantenere il Lecce va sempre bene e ottiene il risultato. Allora Vittorio volevo anche il tuo parere su questa questione tattica che è diventata già annosa. Se è vero che tre indizi fanno una prova ricordiamo che contro il Francavilla l'Epore ha giocato a destra, il Lecce ha vinto 3-0, poi il secondo tempo di Cosenza con il gol in rimonta, sempre con l'Epore a destra e poi il terzo indizio che fa la prova è quello abbastanza clamoroso di Castellammare di Stabia. So che tu la questione la vedi nello stesso modo. Sì, è dall'inizio del campionato che io insisto su questo modo di giocare del Lecce, cioè non mi piace come gioca il Lecce, il primo tempo lo ha dimostrato. Ernesto si è soffermato molto sull'aspetto tecnico-tattico, cioè sul fatto del 4-3-3 o del 4-4-2 o del 4-2-4. Io questi numeri mi danno enormemente fastidio. Se adesso io a Padalino soltanto una cosa vorrei dire, mi dà anche fastidio dirlo perché al chifoso non spetta di dare consigli all'allenatore nel modo più assurdo. Però una cosa la devo dire, Padalino deve decidere se vuole vincere o non vincere il campionato. Se non lo vuole vincere deve continuare a giocare come ha giocato nel primo tempo a Castellammare di Stabia e in altre partite, in tutte le altre partite. Se invece decide di vincere il campionato lui deve schierare quattro centrocampisti. Poi dove vuole metterli? Li può mettere in porta, li può mettere al centro dell'attacco? Dove vuole? Ma quattro centrocampisti servono per forza perché il gioco migliori di molto. Noi giochiamo soltanto con un solo centrocampista, con Mancoso, che era febbricitante ed era influenzato domenica. La partita era già persa, poi è successo quello che è successo, sappiamo tutti. Abbiamo vinto e stravinto questa partita qua, però che serva di insegnamento. Insomma Vittorio sei stato proprio chiarissimo e netto nelle tue affermazioni come anche Ernesto. Non sono soltanto quelle che ha citato Vittorio le partite in cui ha cambiato modulo e il Lecce è andato meglio. Evidentemente c'è questa propensione di Lepore a giocare meglio sulla fascia e soprattutto non si può rinunciare alla tecnica di Mancoso. Lasciamo perdere il fatto che non stesse bene e quindi non ha potuto rendere, però tecnicamente non credo che possa essere discusso. E poi soprattutto non si può più rinunciare a schierare in contemporanea a Fiordilino e a Rigoni perché ambe due messi insieme creano quel giusto filtro e nello stesso tempo quella giusta pedana di rilancio perché gli attaccanti possono andare a segnare perché se non gli dai i palloni giusti gli attaccanti non segneranno mai, devono avere, ho sempre detto, tutti gli anni che segue il Lecce ma da quando segue il pallone quindi da sempre se gli attaccanti non hanno 50 palle giuste per poter segnare non segneranno mai un numero rilevante di gol, ne segneranno un astento semmai per fortuna. Bene, parliamo di Taranto-Lecce che torna dopo 24 anni, lo ripetiamo, 17 punti di distacco tra le due formazioni, un abisso praticamente. Pensate che il Taranto non vince da due mesi, da settembre non vince il Taranto, ha collezionato solo due vittorie, sei pareggi e sei sconfitte in questo campionato, nelle 14 partite disputate. Possiamo dire che è una squadra un pochino in crisi anche se ieri ha ottenuto la qualificazione con i giovani in Coppa Italia come sappiamo. Nel Lecce mancherà Cosenza, è certo per squalifica e quindi si apre il toto vice Cosenza, non sappiamo se sarà Drudi o se sarà Freddi o Vineto a giocare al posto di Cosenza. Allora Vittorio, tu che sei lo storico del Lecce, presentaci un attimo i numeri di questo derby. Taranto-Lecce. Sì, allora il derby si gioca per la prima volta in questo secolo, le altre partite si sono giocate tutte nel secolo scorso, si ritorna a giocare dopo 24 anni. La storia col Taranto è una storia antichissima, si può dire che è iniziata nel 1910, 106 anni fa, quando si fece il primo torneo regionale indetto dalla FIGC, giocò una squadra di Taranto, la Pro Italia, si chiamava, il Taranto non esisteva ancora. Poi abbiamo giocato nel 22-23 lo Sporting Club Lecce, giocò contro l'Audace di Taranto e la Pro Italia di Taranto, perché il Taranto poi nacque nel 1927. Ma passiamo al momento in cui il Lecce diventa Unione Sportiva Lecce, 1927. Da allora si sono giocati a Taranto 33 derby in 64 anni, dal 1928 fino al 1992. 33 derby nei quali il Lecce ha vinti soltanto 3, ne ha vinti 3, ne ha pareggiati 18 e ne ha perduti 12. Ha segnato 28 gol, ne ha subiti 40. Però c'è da dire questo, facciamo un po' di storia nel senso che nel 1928 le squadre si incontrano per la prima volta nel campionato di prima divisione sud. È un campionato che può essere assimilato più o meno alla Serie B attuale. Si gioca alla prima giornata a Taranto, il 28 ottobre del 1928, alla prima giornata. E Taranto va in vantaggio al decimo con Arzeni e poi all'ultimi minuti, all'ottantasesimo, la piccola alla destra nostra, Riccardo Tana, un giocatore velocissimo che quando la squadra viaggiava con il treno dormiva sul portabagagli. Incredibile, Vittoria. Era piccolo. E quindi all'ottantasesimo pareggiamo e la partita finì 1-1. Poi abbiamo giocato nel 1936, abbiamo ricominciato nel 1936 perché Lecce ha giocato in Serie B e il Taranto non stava in Serie B. E quindi abbiamo giocato 13 volte in Serie B, 19 in Serie C e una nella prima divisione che abbiamo ricordato. Ci sono due spareggi giocati nel 1929 e brevemente dobbiamo ricordarli questi due spareggi e tre partite di Coppa Italia. Quindi se sommiamo le 33 partite di Taranto, le 33 partite di Lecce, i 33 derby, i due spareggi e le tre partite di Coppa Italia, giocate due a Taranto e una a Lecce, arriviamo a 71 partite. Che è lo stesso numero delle partite giocate con il Cosenza. Quindi il Lecce nella sua storia ha giocato con il Taranto e con il Cosenza il maggior numero di partite, 71. Sì, allora nel 1928-29 alla fine di quel campionato di prima divisione ci fu una grande ristrutturazione dei campionati italiani, la più grande ristrutturazione nel calcio italiano. L'allora presidente della FIGC, l'onorevole Leandro Arpinati, istituì per la prima volta la Serie A, perché prima non c'era, c'era la divisione nazionale con due gironi e fece la Serie A a girone unico e istituì la Serie B. Allora nel fare la Serie A fu facile trovare le 18 squadre, quando si andò a fare la Serie B ce ne erano 14, ne mancavano 4. Allora queste quattro la federazione decise che dovevano essere tre del nord e una del sud. Può sembrare una disparità, invece no, perché al nord c'erano centinaia di squadre, mentre al sud c'erano poche squadre. Quindi al sud una sola squadra doveva essere promossa. Allora si fecero due gironi di semifinali di spareggi. Il Lecce capitò nel girone A, un girone di ferro, perché capitò con Foggia, Cagliari e Palermo, le quattro squadre. Mentre il Taranto capitò e giocò con una squadra di Pescara e con una squadra di Messina, il Gargallo di Messina. Quindi il Lecce vinse il suo girone. Però lo vinse perché il Cagliari all'ultima partita dette forfè per dispetto alla federazione e a Palermo, per fare un dispetto pure al Palermo che la settimana prima aveva vinto a tavolino la partita, dette forfè. E quindi noi vincemmo il girone. La FGC si indignò per questo comportamento antisportivo, annullò la classifica finale e fece fare uno spareggio tra la prima e la seconda. Tra il Lecce con nove punti e il Palermo con otto. Si giocò sul camponeggio di Napoli al campo Arenaccia. Il Lecce vinse 1-0 e quindi diventò la vincitrice del girone A. Doveva incontrare la settimana successiva il Taranto che aveva vinto l'altro girone. Quindi il 28 luglio del 1929 a Napoli di nuovo al campo Arenaccia, il Vomero non era stato ancora costruito, il Lecce giocò con il Taranto e la partita al novantesimo stava sul 2-2. Si giocarono in tempi supplementari, non accadde niente, allora non c'erano i calci di rigore e quindi la partita per regolamento si dovette ripetere e si ripete la settimana, la domenica successiva. Camponeggio di Bari al campo dell'Isporto, lo stadio della vittoria non era stato costruito, fu inaugurato poi nel 1934 e quindi si giocò il 4 agosto in piena estate, il 4 agosto 1929. Il Lecce travolse il Taranto 3-1 e fu promosso in Serie B. E questa è la prima storica promozione del Lecce in Serie B. Abbiamo soltanto due minuti per parlare di formazione. Ernesto Luciani che cosa prevedi per domenica? Si gioca alle 20.30, oggi la Lega ha deciso che l'orario non sarà cambiato. 20.30, sono ammessi anche i tifosi del Lecce allo stadio Iacovone? Guarda, io non voglio prevedere niente, voglio soltanto fare una raccomandazione. Non bisogna illudersi che il Taranto sia una squadra di deleriti. Sicuramente ha tanti problemi, sicuramente è una squadra costruita all'ultimo secondo, non dimentichiamo che il Taranto è stato ripescato all'ultimo momento, quindi ha avuto diverse vicissitudini. Però tutto questo non ci deve far illudere, così come i tanti punti di distacco tra l'una e l'altra squadra, che gli Ionici siano una preda predestinata. Non lo sono per niente, anzi, io direi che proprio i precedenti pareggi fuori casa ottenuti dal Lecce contro le matricole di questo campionato dovrebbero insegnarci e insegnare a chi deve giocare che non bisogna fidarsi delle apparenze. Le apparenze in questi casi direbbero che il Lecce deve andare a Taranto e vincere. Io dico che bisogna prima di tutto giocare. Giocare bene, giocare con il sistema che vuole Padalino, che faccia lui, giustamente lui che rischia in prima persona, quindi è giusto che decida per se stesso, però alla fine dei conti chi va in campo deve sapere che alla fine della partita il Lecce ha un dovere di dare resoconto ai propri tifosi. Ernesto, l'ultima battuta e poi anche a Vittorio, stessa domanda. Castellammare, può cambiare il campionato del Lecce una svolta che può essere anche psicologica, caratteriale, morale? Indubbiamente sì, perché certamente la forza dimostrata rispetto all'avversario nel secondo tempo può dare quella carica di fiducia nei propri mezzi che forse il Lecce ha sempre avuto forse eccedendo in alcuni casi, vedi pareggio tenuti fuori casa e però mai con quella certezza e con quella sicurezza che deve portare poi a conquistare punti anche nelle partite in cui non si gioca bene abbiamo l'esempio in Italia, il classico, la Juventus gioca male ma vince lo stesso perché è sicura dei propri mezzi, è sicura che comunque prima o poi il risultato arriverà il Lecce deve prendere insegnamento da questo e fare tesoro di quelli che sono gli insegnamenti pratici ottenuti sonora in questo primo scorcio di campionato. Grazie ad Ernesto Luciani, direttore di lecceoggi.it, vittorio.com mi correggo Vittorio per concludere, pensi che sia la svolta sul piano proprio caratteriale della squadra? Sì, sono convinto che sarà stata una svolta quella del secondo tempo di Castellammare di Stabbia e sono d'accordo in parte con Ernesto perché Ernesto ha fatto l'esempio della Juventus che giocando male riesce a vincere lo stesso la Juventus non ha avversari nel suo campionato, il Lecce li ha invece gli avversari e sono temibilissimi, Foggia, Matera e Juve Stabbia sono temibilissimi sono dello stesso livello del Lecce, il Lecce non ha molto di più secondo me ha qualcosa in più ma non molto di più quindi deve giocare più col cervello che con le gambe io mi auguro che il secondo tempo di Castellammare di Stabbia abbia senz'altro aumentato l'autostima da parte dei calciatori ha convinto i calciatori che possono vincere con qualsiasi avversario e soprattutto io mi auguro che il nostro tecnico si ricordi del secondo tempo e dimentichi il primo tempo completamente lo metta da parte il primo tempo di Castellammare di Stabbia e ricordi quello che è successo nel secondo tempo se si dovesse ripetere lo stesso secondo tempo a Taranto e nelle successive partite il Lecce ha un 95% di probabilità di vincere il campionato Grazie a Vittorio Renna, Gazzetta del Mezzogiorno grazie a Bruno Conte per averci seguito dal Tennis Grill di Lecce è tutto, la parola passa al campo allo stadio Iacovone alla prossima